Ciao a tutti in questo video, io sono Gamer409 e oggi siamo tornati qui su Gastar Vegas Ragazzi, me l'avete consigliato in molti... no, non me l'avete consigliato, scusate, ho sbagliato a dire Saluto Alessio, saluto Alessio perché mi ha chiesto se nel mio prossimo video potevo salutarlo Quindi sì, ti saluto, ciao Alessio Intanto c'è una bella Ferrari Ciao bella Ferrari, come stai? Spero bene Ok ragazzi, torno subito Eh, volevi, Dio Andiamo a vendere questa bella Ferrari Così ci dà dei bei soldini Mamma mia che potenza Ciao zio Aspettate Aspettate Muori Mamma mia non gira niente Ragazzi Furia stradale Aspettate 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 Grazie per la visione Forza Sali Grazie per la visione 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 Grazie per la visione